Veste truccate Comincia la danza di frecce con dietro attaccata a una targa Dammi una speruccia all'estate che avanza Dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi Sei la mia Vespa special che ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi Sei la mia Vespa special che ti toglie i problemi La scuola non va ma una Vespa una donna non ho Ho una Vespa domenica e già E una Vespa mi porterà Ed ecco ci troviamo qui a Mugnano A Auchan centro commerciale La signorina con la partecipazione E la signorina Viviana dalla Grecia In questo momento che stai mangiando? Un'extracomunitaria Un'extracomunitaria che sta mangiando? Kebab Kebab, ok Il nostro Achille che mangia? Sto mangiando i paccheri con un prosciutto Il formaggio, il parmigiano Una vera squisitezza Il nostro amico Marco Va bene anche il mio, il mio piatto lo sto mangiando E' trattato veramente bene Salutiamo gli amici Anche dobbiamo salutare gli amici Il nostro amico commercialista Ad Armando Capoccia Armando Capoccia detto Capoccioli Capoccioli guardate che paccheri Capoccioli guardate che paccheri Capoccioli guardate che paccheri Capoccioli guardate che paccheri Ciao a tutti Buona domenica Ciao 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 niente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti